Siamo ritrovati amici, abbiamo lasciato da poco Prunetto e affrontato una discesa assolutamente fantastica, buona parte dell'asfalto è completamente nuovo, ci siamo reimmessi sulla strada provinciale 439 in direzione Cortemiglia e tra poche centinaia di metri, svolta secca a sinistra, attenzione a una griglia di scolo per l'acqua e sarà la Hugo Coblet. 6 chilometri e mezzo da Gorzenio a Niela Belbo, salita dura, nervosa con diversi cambi di pendenza, serviranno rapporti agili e ancora una buona forza per raggiungere la strada panoramica in località San Giovanni.